ItalTel ha recentemente presentato la nuova offerta nell'ambito del cloud computing. Di questa offerta parliamo con Camillo Ascione, responsabile del product marketing and offering. Quali sono i termini del vostro catalogo, per così dire? ItalTel è in grado di realizzare soluzioni di cloud basandosi sull'esperienza che abbiamo acquisito nel mondo dei service provider, siamo in grado di realizzare soluzioni di telecomunicazione, infrastrutture, reti e computing nell'ambito dei data center e sfruttando le nostre competenze e le potenzialità della virtualizzazione e dello storage, siamo in grado di implementare soluzioni di middleware tra le più importanti presenti oggi sul mercato, garantendo l'adeguato livello di orchestrazione di queste piattaforme e soluzioni per il controllo dei processi di business dei nostri clienti. Voi siete tra le altre cose cloud builder di Cisco, ma io vorrei chiederle ancora qual è il vostro posizionamento sul mercato e quali sono i punti di forza di questa vostra offerta? La ringrazio per la domanda che mi dà la possibilità di annunciarle che entro gennaio del prossimo anno completeremo il processo di master cloud builder, la massima certificazione oggi prevista nell'ambito della tecnologia Cisco e che inoltre siamo l'unico partner in italiano presente sul marketplace sempre di Cisco, come quindi uno dei partner riconosciuti a livelli più alti dal vendor Cisco presente oggi nelle soluzioni di cloud. ITALTEL oggi è presente nei mercati di enterprise, della pubblica amministrazione e dei service provider, dove appunto abbiamo realizzato di recente dei casi di successo. Il cloud computing è tra le ultime tecnologie arrivate, eppure ci sono già dei casi di successo. In casa ITALTEL questo caso di successo è rappresentato da Cloud Italia, un vostro cliente, uno dei più importanti e promettenti sul mercato tra l'altro. Sì, Cloud Italia che è il primo operatore italiano dedicato alla fornitura di servizi di telecomunicazione e computing integrati, ha rivolto la sua offerta al segmento della piccola e media impresa, della pubblica amministrazione e dei professionisti. Grazie al forte impegno di ITALTEL nel lavoro in team con Cloud Italia e con i partner tecnologici coinvolti, siamo stati in grado di realizzare in poco più di due mesi il progetto chiave in mano delle infrastrutture del data center, garantendo quindi la commercializzazione del servizio nei tempi previsti dai piani di business dell'operatore. Un caso di tempi rapidi, di qualità del servizio offerto, vorrei chiedere alla luce di queste considerazioni quali le ragioni per un partner di mercato di intravedere in ITALTEL un interlocutore di qualità. Perché? ITALTEL, grazie alla sua esperienza nel mondo dei service provider su tutte le infrastrutture di rete, è stata in grado di garantire un alto livello di qualità durante l'esecuzione di tutte le attività che aveva in carico. È stata in grado, con le competenze acquisite nel mondo delle soluzioni cloud, di ridurre i tempi di progettazione e di implementazione di queste soluzioni e inoltre con la grande esperienza che ha acquisito nel corso degli anni sulle piattaforme OSS, BSS e di operation delle reti complessi degli operatori, è stata in grado anche di supportare un cliente appunto come Cloud Italia e quindi altre potenziali clienti che volessero accedere a questo tipo di servizio, a questo tipo di implementazione, un adeguato livello di controllo di operatività, dell'esercibilità delle reti. Quanto è importante il cloud computing nell'offerta di ITALTEL? È fondamentale per lo sviluppo delle proprie soluzioni perché include sia la parte di infrastruttura, attività storica di ITALTEL nell'ambito delle infrastrutture sia tradizionali di telecomunicazione che innovative IP, ma soprattutto anche nell'ambito dello sviluppo dei sistemi di gestione di queste reti che devono avere comunque un altissimo livello di affidabilità che passano quindi attraverso un livello di controllo adeguato. ITALTEL vuole esprimere al massimo le sue competenze, le sue capacità per completare questo tipo di processo. Bene, abbiamo parlato di ITALTEL e di Cloud, ne abbiamo parlato con Camillo Ascione, responsabile del product marketing and offering di ITALTEL. La ringrazio. Prego, arrivederci.